Meno contagi in città e in province, anche meno ricoveri, questo quanto si legge dall'ultimo bollettino inviato dall'Asp. E tuttavia i medici continuano a consigliare di non abbassare mai la guardia. Sono 112 pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 38 sono di Caltanissetta, 34 di Gela, 15 anni scemi, 7 a San Cataldo e gli altri sono distribuiti nei vari paesi della provincia. Il report riguarda ovviamente la giornata di sabato. Per ciò che riguarda appunto i ricoveri sono 38 i ricoverati nel reparto di malattie infettive a Caltanissetta, non c'è nessun ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sono 550 i positivi in quarantena domiciliare in città, 8 sono i ricoverati in malattie infettive, 646 i positivi ricoverati in quarantena. A Gela, 8 sono i ricoverati in malattie infettive, un totale di 2410 pazienti in quarantena domiciliare in tutta la provincia.